è certo e allora chiediamo in mente scusa quando l'inter era prima l'anno scorso prego ma è lì che si vedono i problemi intanto ciao ciao ragazzi e ragazze che succedere 9 no cacciate marotta non mi sono spinto fino in là perché so la stima che tutti hanno e so quanto di buono ci sia nel suo lavoro semplicemente semplicemente bisogna mettersi tutti in discussione troppo facile mettere in discussione il portiere natore gli unici che non possono essere messi in discussione sono i tifosi che oggi hanno fatto il nuovo sold out dopodiché vediamo un po insomma sentivo i dati i dati li hai detti tu manfredi insomma quattro sconfitte lo scudo non lo vinci mai neanche in quattro ogni tanto lo vinci però quattro le hai fatte già non perderai mai più no no ma poi ne hai perse di quattro ne hai perse tre veramente in maniera netta e questa qui dove cerchi di aggrapparti con le unghie ai pochi tiri presi è vero poi la roma ha fatto una partita abbastanza provinciale però intanto è venuta ha fatto la sua partita quella che doveva fare quella che dovevamo fare noi era una partita più arembante con ancora più grinta non siamo precisi sotto porta l'autaro l'ultimo gol l'ha fatto con la cremonese rebici ha fatto gli stessi gol di l'autaro avete visto il finale del mila il mila prende gol si esalta noi prendiamo il gol e poi e poi veniamo veniamo come sempre io voglio voglio un inter che faccia 1 a 0 al primo tempo e finisca così voglio vedere quanto tempo passerà per un 1 a 0 nel primo tempo e la partita finisce così poi ovviamente andiamo in vantaggio veniamo ribaltati e poi ovviamente si può vedere il bicchiere mezzo pieno in qualsiasi cosa io lo vedo anch'io mezzo pieno di merda però mi ha detto no ma giocherà solo per il turnover non ha fatto una gran figura che ha meglio no no ma è uguale è importante dobbiamo parlare del risultato delle prestazioni ma dimmi che stai guardando in tv prima e cadano i 5 ok ok allora con ordine con ordine adesso andiamo anche sul risultato azzeccato da camele o se ce l'avete lo spezzone mandatecelo nel bot eh beh un po' di rispetto sì vediamo se ce la mandano siamo voglio provocare un po' i romanisti vi dico la verità puoi dire quello che vuoi stasera dopo l'ultimo ritorio a milano puoi dire quello che ti vale no 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 ecco io vi dico come la vedo io ecco qua facciamo i beceri eh no 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 nel senso va bene abbiamo vinto con l'inter disastrata il Torino un mese fa ha fatto 26 tiri sembrava il Real Madrid e il Barcelona insieme quindi l'inter è in crisi eh beh la prestazione della Roma non è buona il risultato è ottimo se abbiamo il coraggio di dire cose quindi va bene va bene è un merito della Roma fare due tiri in porta e due gol vuol dire che la Roma era concentrata però calma che sennò no 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 dico la mia dico la mia l'inter è in un periodo che può perdere con chiunque perché si vede cioè anche se passa in vantà prende le traverse e in quel periodo là devo dire che la Roma è una mezza magia di Dybala condita con una mezza papera di Andanovic più un calcio piazzato effettivamente questo è cioè non ho visto io chissà. Dillo te perché se lo dico io qui è la fine. No poi magari mi sbaglio eh ho visto tanta lotte in mezzo al campo soprattutto. Però anche lui Patrizzi ha fatto una papera per correttezza diciamolo. Sì sì. Ne sta facendo tante di papere però però l'ha portato a Mourinho quindi magari non si può dire. Chi vuole eh chi 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 la vede diversamente da me. Posso dire posso dire a Enrico a Camelio io faccio fatica. È difficile penso i tifosi dell'Inter lo sanno meglio di noi perché ce l'hanno avuto e gli ha fatto vincere tutto. Credo che criticare uno come Mourinho soltanto a Roma o soltanto in Italia perché io trovo allucinante che ci possano essere persone che hanno dubbi sul valore di Giuseppe Mourinho. E stasera comunque. Attenzione lo sconto si avvicina eh. Lo so però purtroppo c'è il video nel Bocchi di Mourinho che sciulta con i tifosi. Vediamo. Te lo prendo. Ti riapplico dopo. Sì tranquillo. Te lo cerco te lo cerco. Intanto. Prendiamo di calcio alla fine. Chezzi. Ecco l'aspetto lo sto scaricando eh. Vediamo. Ah ok. Giorgia tu come la vedi questa visione un po' tra Giuseppe ed Enrico? Che la vedono un po' all'opposto. Di Enrico ovviamente lo so perché non dice sempre del gioco di Mourinho e quindi ok. Il gioco? Sì che il gioco non c'è. Ah no non c'è il gioco no nel senso l'altra cosa. Comunque vai sempre contro che secondo me andare contro di lui come dice giustamente Giuseppe è un po' una follia che e poi soprattutto quello che dici tu. Scusate intanto per la voce che ogni tanto fa alti e bassi. Tranquillo. Si preoccupi. Eh cosa? No non si preoccupi non si preoccupi. Ah ok. eh però allora sicuramente ehm hai ragione tu quando ti ovviamente vanno sempre indietro non attaccano mai quindi alla fine dice vabbè è un gioco che c'è e non c'è. Dall'altra parte non puoi attaccarlo perché comunque la mentalità come scendono in campo sicuramente stasera non sono stati mh una vera squadra il primo tempo ma al secondo tempo alla fine l'aggressività che non c'avano prima l'hanno tirata fuori almeno a mio beh beh Giorgia dico effettivamente adesso che hai parlato riflettuto su una cosa che comunque la Roma degli ultimi anni fino all'anno scorso questa partita qua non la vince mai. Questo bisogna dirlo. Questo è vero. Questa partita la Roma non la vince. Esatto cioè secondo me proprio l'atteggiamento mentale è proprio cambiato dei giocatori. Sbaglio. Può essere. Può essere. Allora replico un secondo. Vai poi vediamo il video. Guarda io sono Ancelottiano per eccellenza poi Murignano e Allegri. Ma come c'è? No aspetta tutto vai. Ma perché c'è uno che non è Ancelottiano? Ma per dire per il calcio per il calcio pragmatico no? Quindi fino a due anni fa tutti a Roma te lo ricordi volevo un Allegri adesso è diventato un coglione perché in Italia funziona così andiamo a presso i risultati. detto questo che facciamo oggi ha vinto Murigno e con Udinese ha perso la Roma. Io questo giochetto lo decidiamo ad oggi. Vince Murigno e perde Murigno o vince Murigno e perde la Roma? Io questa cosa non ho mai capita. No vince e perde la squadra come vince e perde Murigno. No no mi pare che stiamo dicendo che Murigno ha vinto e che c'è Murigno. Oggi Roma ha fatto due tiri in porti. Beh un po' c'ha ragione Camelio eh. Io sentivo con l'Udinese. Però ragazzi abbiamo visto le statistiche ha fatto l'Inter due tiri e la Roma tre. Ricordiamo la Roma giocava stasera giocava a Milano contro una squadra che ha perso tre partite su sette. Quindi crisi. Una partita complicata ma comunque una partita complicata. Ma perché il Torino ha sfondato l'Inter? Ma ha perso però. Eh vabbè noi chiudiamo le trasmissioni e commentiamo i risultati però. Ma l'hai vista la partita l'Inter Torino Giuseppe? Sì l'ho vista. Vabbè ragazzi. Ma come va bene? Se fosse facile vincere a Milano. No ascolta. Siamo d'accordo che conta avere Di Bala e non conta avere Sanabria o se è la stessa cosa io ti dico hai ragione e finiamo qua. Ma Di Bala ho capito ma la differenza fa anche i calciatori. Se Di Bala sta a Roma è merito di Giuseppe Morigno perché senza Giuseppe Morigno di Bala a Roma non ci viene. E lo vedi che torniamo qua? No che l'ha comprato i freddi. Lo vedi? Fu bene. Lo vedi come è? Lo porta di Maurigno. Lo porta. Scusami. Sono un po' influenzati Camelio. Sono un po' influenzati. Infatti Morigno chi lo porta lo portano i freddi. C'è un po' di sudditanza Camelio stai dicendo questo. Ma poca poca. Senti mi riponi. No eri giusto. Dico solo una cosa Giorgia. Siccome non hai le cuffie o il microfono. Quando parli stanno parlando gli altri. Chiedi da Murigno le cuffie. Quindi adesso ti faccio parlare dopo Camelio. Vai Eric. No al volo. Giuseppe scusami. Domanda. Di Bala lo porta Morigno a telefonato. Questa è un'anticipazione che ha dato un certo Dico Camelio. Spero che ne lo conosci. Mi chiedici chi ha portato Shomurdo e Vigna di una spesa di 50 milioni? Ha fatto anche errori Morigno. Non è che... Ah ok. Io la posso. No perché qua non si può dire. Però si possono fare errori. Si possono fare. Però comunque Di Bala Guainaldo. I calciatori che se avevi in panchina un altro allenatore non del livello di Murigno non ci venivano a Roma. Questo è andato di fatto. Giorgio. E' facile portare un certo tipo di calciatori. Vabbè. Vediamo da portare anche i risultati perché le spese sono tante. Una coppa l'anno scorso comunque. Ragazzi. La Roma sta dove deve stare. La Roma è una squadra da terzo qua. Beh sotto la Lazio no. Scusami. Eccola classifica. Giorgio che stavi parlando non li parlate sopra se no non si sente. Vai Giorgio. No no. Super d'accordo con Giuseppe. Cioè nel senso alcuni calciatori non si sente. Certo. Murigno chi ve lo tocca. Non le parlate sopra. Ehi facciamo parlare la signorina. Giorgia. Ripeti ripeti Giorgio. Non è nel senso che lo dico io. Lo dice qui. Cioè è proprio un dato di fatto. Gli vostro spagli altri allenatori non sarebbero venuti i giocatori del genere. Molto probabile. Ah questo sì. questo sì. Anche lo stesso Ebram che a te non piace. A me è dispensato tantissimo. Stasera non è stato in grado di segnare. Perché comunque secondo me lui è veramente un bravissimo giocatore. Ma scusami ma quel gol uno come Ebram lo deve fare o non lo deve fare? Anche se l'ha portato a Murigno eh. Chiedo. Lo deve fare. Ah ok. Posso Manfredo? Vai vai vai. Grazie Sandro. Ti metta che non si è ancora espresso su Murigno. Vai. Chiaramente anche Bergomi. Vai. Dico fa un po' strano che oggi si parla comunque di Murigno che ha vinto 2 a 1 a San Siro e non si parla di Inzaghi che il giorno prima della partita ha detto dove sono io? Si vincono trofei, aumentano i ricavi e poi fai quattro sconfitte in otto partite. Cinque sconfitte in dieci partite. Certo. Fatale. Anche Inzaghi. Giusto. 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 L'osservazione. Poi metto lo stesso livello Inzaghi e Murigno. Ragazzi Inzaghi c'è una rosa da scudetto. Poi possiamo dire. La Roma che era la serenitana. La Roma non c'è una brutta squadra eh. La Roma è arrivata sesta l'anno scorso. Allora. No aspetta aspetta sesta per colpa di chi? Ma per grazie Smigol. Perché non era una rosa da primi quattro. Sotto la Lazio doveva stare a Roma quindi l'anno scorso. Ma vince la Coppa. Vinci comunque se non è risposto. Doveva stare sotto la Lazio? La Roma molla l'ultime giornate perché. Ah beh. Lo vedi che la Roma non c'è la rosa l'anno scorso per fare due competizioni. Ma ha speso no 100 mila l'anno scorso da Roma. Eh pure che stanno speso. Però che sono tutti magari oggi si vedono mai di quel lavoro lì. C'è un lavoro che sta funzionando no? Forse gli ingaggi. Fai il pull se la Roma ha l'ingaggi di commissione Giuseppe. Sono calati però gli ingaggi sono calati rispetto all'anno scorso. La Roma è rientrata parecchio sugli ingaggi. La Roma ha fatto un lavoro di contenimento anche dei nostri quest'anno. Quindi One Hadum e Ibala, Mati ci costano poco. Va bene. Ok. Aspetta aspetta. Aspetta aspetta. Ordine ordine. Mourinho. Vai. No. Io onestamente l'ho sempre pensata un po' come Enrico su Mourinho. Però penso che nelle ultime due giornate tra Atalanta e oggi. Dal settimana scorsa siamo lamentati che la Roma aveva giocato finalmente bene e non aveva vinto non capitalizzando una marea di occasioni. Oggi secondo me abbiamo dato continuità perché siamo andati a Milano facendo la partita che dovevamo fare perché cioè ragazzi non siamo in Real Madrid eh. Non è che dobbiamo andare a Milano e imporre gioco. Sì neanche il Crotone eh. Ok ma non credo che abbiamo fatto una partita però l'Inter è in crisi non lo diciamo. Ok ma lì ha proprio perché l'Inter è in crisi secondo me questa era una partita complicata. Ah ok. Esatto. Ti posso garantire se l'Inter è la prima qui i mulignani dicevano ma l'Inter sta al top quindi non si vince. Qua con Mourinho non si riesce mai. Tranquilli. Scusa la Roma perché mi spieghi perché il Torino va a fare la partita il Torino con gli Scarpani. Allora un giorno facciamo una puntata. Camellio contro il resto dei tifosi della Roma. A difesa di Simone Inzaghi sono entrato. Buonasera a tutti. Non avevamo dubbi. Non avevamo dubbi. A difesa del mister. Un attimo che scusami. Oh era ora oh era ora. Ecco qua gli amichetti sono tornati vicini di banco. Anche Luca Coen. 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 Che ci fa Luca Coen qua. Ah poverino. No vabbè io ascolto. Ascolto i pianti dell'altra Milano. Poi parlo dopo. No no no. Scherzo scherzo. Allora ordine ordine. Eravamo su Mourinho. Eh eh Fabio. C'ho il video io comunque. Il suo Mourinho. Se vogliamo vedere eh. Se vediamo il video di Mourinho che insulta e che simpatico. Vediamoci sto video. No. Cosa vi sto condividendo. Ma chi cazzo condividi? Cosa è cambiato? Ma che c'è sul canto? Scusate. Vabbè. Vabbè. Scusate. Ma questo è un alert. Scusate. Ma cos'è? L'ultima volta scusate. Vabbè. 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 L'uomo più amato di Roma in questo momento. Tranne da Camellio. Solo Camellio. È chiaramente un po' dei laziali. Amato da Roma. È amato da una parte di Roma. Da una parte di Roma. Vabbè perché tu lo odi scusami. No no ma di certo non lo amo. Eh un pochino. Manfredi cosa stai toccando con la regia? Qualche anno fa lo amavate però. No ma guarda io ritengo che Mourinho sia stato sia magari lo è stato anche in passato eh un grande eh passatemi il termine politico nel calcio no? Ha cambiato un po' il calcio in Italia no? Quando fu all'Inter eh io ho sempre avuto molto rispetto per per Giuseppe Mourinho. Ovviamente oggi non è che non lo rispetto più. Ci mancherebbe. Non lo amo. Non l'ho mai amato. Eh in questo momento allena la squadra dell'altra parte della città. Ovviamente c'è una rivalità calcistica. Poi per quanto riguarda la persona io credo che eh quando è venuto in Italia ha cambiato in qualche modo il calcio in Italia. Ok. Sì sì. Ma chi merita oggi Damiano? No. No aspetta aspetta Camelio. Non facciamo la stessa domanda a tutti. Fabio eh un attimo tu che li hai avuti tutti e due eh eh Murinho e Simone Inzaghi. Non c'è non c'è paragone tra i due? Non c'è paragone con tanti altri natori. Oggi Inzaghi dice dove io vado porto trofei di 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 mezzo i costi. È una è una punzecchiatina che lui fa che lui fa a Conte dove magari lui dice sì lui porta i trofei ma porta anche tanti costi. Però in realtà voglio dire quest'anno se va come deve andare e se non ci sono sorprese o lo vince magari a Ligri in recupero e quindi a trofei non può neanche competere. Giusto Frankie? E se invece dovessero vincerlo Pioli o Spalletti deve andare a casa nel senso che poi alla fine con una squadra altrettanto forte potrebbe dire che Spalletti potrebbe anzi ammettere che Spalletti riporta lo scudetto magari a Napoli dopo trent'anni e senza Maradona e che Pioli fa un ciclo vero non come il suo il ciclo delle coppette. Spalletti due anni fa era un coglione anche qui dentro. Faina in difesa di Simone Inzaghi si è entrato in difesa ma non l'hai difeso. Infatti mica l'hai difeso che l'hai buttato giù. Non me fate parlare e non me fate parlare. Se me fate parlare mi fate parlare. Ma ragazzi io leggo ho visto anche il video che fa Fabio non mi trovo d'accordo perché qui sembra che tutte le colpe dell'Inter so di Simone Inzaghi. Basta. Ciao grazie. No 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 nel senso non in tuo video tutto Fabio ho visto anche il tuo video. Critica il video di stai criticando il video di. No 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 ho visto Bergomi così. Vedi dentro questa trasmissione non si può fare. Ma non è vero ha detto che l'ho visto. Fate parlare Faina. Io l'ho fermato un secondo perché. No lui ringrazio per aver visto il video però se l'ho visto. C'è un rafforzativo che devo fare. Io sono uno dei pochissimi che ha spalmato le colpe a tutti già da tempo. Non ho mai detto Inzaghi out. Sembrava una critica velata maestro scusami eh. Sì infatti ha detto non so d'accordo. Sembrava una critica velata però scusatemi. Se non lo fate parlare. Posso finire? Certo prego. Se posso finire. Grazie. Dicevo vedo sto Inzaghi out poi ognuno il tifoso è libero di ovviamente di esternare le sue emozioni opinioni come gli pare a lui ci mancherebbe. Io dico la mia e dico semplicemente che Inzaghi ha le sue responsabilità anche nella partita di oggi che a me personalmente non mi ha entusiasmato sia da una parte che dall'altra. Non è stata una bella partita. Detto questo credo che ci siano grandi responsabilità in tanti calciatori dell'Inter. Ci sono dei calciatori dell'Inter che sono irriconoscibili e il primo di questi è Milan Skriniar. Ci sono dei calciatori dell'Inter che secondo me non hanno voglia di giocare a calcio e mi dispiace che poi per colpa di tanti perché ce ne sono tanti all'Inter compreso Andanovic che dovrebbe alzare le mani e dovrebbe dire ragazzi io non sono più in grado di ricoprire il ruolo di primo portiere. Basta. Ma questa cosa qui lo ha fatta la società Fabio. Tu lo sai meglio di me. Andanovic era in scadenza. Hanno preso un anno. Hanno innovato Andanovic. Quindi la colpa non è dei Inzaghi. La colpa è della società. Detto questo ci sono delle responsabilità grandi. Ho finito. Ho finito. Dele responsabilità grandi dei calciatori. Di tanti calciatori. Oggi ne salvo solo due. Secondo me giocano bene Bastoni e Cialanoglu. Il resto secondo me è sotto la sufficienza. Ci sono delle grandi responsabilità da parte della diligenza. E c'è una società Fabio che sta cercando un compratore in giro per il mondo. Quindi su che base si può fare gruppo? Leggevo anche un tweet di Biasin. Su che base? Sul nulla. Poi aspetta. Ci sono delle responsabilità. Biasin deve tacere. Perché quando Conte faceva gruppo da solo. Quando lui gli dava contro. Quando Conte non pagava gli stipendi e lui faceva gruppo da solo la pinettina. Da solo. Da solo come canta Jamil. Lui non l'ha mai difeso. Adesso qui invece spalma le colpi. Biasin o non citare Biasin. L'ho letto anche quel tweet. Lo seguo. È simpatico. Però un anticontiano che quando Conte faceva da solo il lavoro di 10 adesso viene qua e parla di gruppo. Comunque scusami ma Damiano io sono d'accordo con te. Le coppie vanno divise e ti faccio delle domande io. Visto che qualcosa so non mi va di dire. Ti chiedo una cosa. Che tu sappia c'è o non c'è questa frattura nello spogliatoio. E se sì come mai è avvenuta comunque dopo dei successi importanti perché l'anno scorso l'Inter comunque vince due coppe. Tu sei a conoscenza di qualcosa. Visto che la Lazio è durato. Tare non Tare. Lo Tito entrava in spogliatoie. Però è durato la Lazio. Ha fatto anche il duro con i ma... È vero che la comandavano lo Tito e Tare e quindi lui era il pioli della Lazio. Grazie manager. Oppure oppure tu sai... Ma Fabio ma Inzaghi la Lazio... Ma ci sono scontri. Però aspetta per Inzaghi per Inzaghi la Lazio è famiglia ragazzi. Non c'è da paragonarle le due situazioni. Cioè Inzaghi so vent'anni da Lazio si è fatto. Quindi secondo me è grande Giulia. Bella battuta. Gira sul web da oggi pomeriggio al gol del dibattito. E dicevo Fabio non si può paragonare questa situazione. Per quanto riguarda gli scontri sull'Inter ho sentito in giro che potrebbe esserci anche da una persona che conosciamo entrambi. Però della sicurezza non me la dà nessuno. Però ti ripeto queste situazioni... Queste situazioni dovrebbe sistemarle tra virgolette la diligenza. Perché io ricordo che magari quando c'erano nella Lazio era anche i glitare ad andare tra virgolette a sistemarle. Ok? Poi ripeto io non penso che il problema sia semplicemente questo. Perché se fosse tutto ridotto a un mero scontro tra calciatori se dovrebbe tornare un po' come facevano una volta prenderli e metterli in tribuna. Perché Fabio spare... perché tanto paga sempre l'allenatore. L'allenatore è quello che... perché è più facile da cacciare. Perché è meglio se non era uno che cacciarne dieci. È ovvio questo. È naturale. Cioè è scontato questo. Però ripeto... quello che penso io... quello che penso... quello che penso io... è che... è che Simone Inzaghi... Simone Inzaghi non è Klopp, Ancelotti eccetera eccetera. Io penso che questo la diligenza dell'Inter lo doveva sapere quando l'hanno preso. Ma quest'anno è Klopp! Beh l'hanno pagato due milioni. Manfredi! Manfredi! Manfredi posso? Certo! Damiano ha detto... guarda questa cosa... facciamo il blob e tiktok come vi pare a voi. Ha detto meglio licenziare... Come il bob? Il bob? Il vlog? Il drop? Blob! 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 Senti è meglio licenziare uno che dieci. Secondo me questa è d'archivio, è una chicca, teniamola agli altri. Ma sì... ma... no no raga però... chiaramente ci sta. Ha ragione Damiano, è vero, ma è sempre stato così. No vabbè ma Camelio è legato alla radio anni 80 che quando dicevi ste stronzate, te mannavano su Rai 3 e Blob, capito? Dicevi mamma guarda sono su Blob e su Rai 3. Siamo nel 2022 e il signor Camelio ancora non ha capito un cazzo. No vabbè ho capito però... cioè poverino... dovevi rispondere chi non distrugge. Però io voglio fare un quesito e Damiano... allora ci sono due calciatori che nelle due partite... le ultime, Udine e quella di oggi con la Roma, hanno detto chiaramente noi siamo col mister. Uno è Di Marco che sta vivendo un momento da leader e l'altro è Lautaro Martinez che è l'uomo che... Inzaghi deve chiedere scusa a Di Marco, l'ha messo centrale. No... allora... questo è una roba che voglio dire... se ne erano accorti tutti come il discorso di Andanovic e Onana... però lui... lui vuole anche rigiocare con Liverpool. Vabbè con il Liverpool di oggi forse potrebbe fare un pareggio. È un testone... però io dico... ci sono due calciatori molto importanti... con Interismo e il leader... perché quest'anno l'autore era... era fino all'inizio il leader... che dicono siamo con Inzaghi. E invece ci sono altre... così... altre notizie che arrivano e fuoriescono dove invece c'è una scollatura. Allora io se l'ho chiesto a Doniano se fosse a conoscenza... ma anche voi... magari anche tu Manfre o qualcuno da Roma. Eh sì sì... a me l'hanno detto... hanno detto che c'è... hanno detto che c'è... Sì sì... assolutamente sì... però... Ti dico solo che a Inter me l'hanno detto sempre... Gabri tu sai tutto dai... No non so questo dettaglio... però dico a parte gli errori... che uno può fare contro l'Udinese... o oggi in generale... cioè... io credo che... la perseveranza di schierare Andanovic... quando comunque hai un secondo portiere più giovane... Ce l'hai... esatto... ce l'hai... non ha senso... ma come secondo me... un errore... molto grave... che oggi ha anche fatto notare Manfredi... il fissarsi con Correa... quando tu veramente a giugno ci avevi di bala in pugno... e oggi ti ha segnato di bala... Correa non è andato via... quando ho visto entrare a Correa... ho detto è finita... perché Correa non è finita... Correa è un classico attaccante da 0-0... è un attaccante che purtroppo... oggi è entrato... a Damiano piaceva però Giuseppe... attento eh... vabbè però è andato di fatto... è uno... Damiano è uno... è una fine... 5-6 gol al campionato... non di più... che sia discontinuo... che sia discontinuo Giuseppe... questo non c'è un breve dubbio... il problema è che nell'Inter... non sta manco trovando quella discontinuità... cioè proprio... che vuol dire trovare la discontinuità... è un paragone no... nel senso come... non sta proprio a giocare... Correa... perché entra in campo... perché vanno tutti male... io capisco il tifoso onterista... dice porca sozza... abbiamo pagato questo... 30 milioni... entra in campo... non ti dico... fa male la differenza... ma un passaggio da qua a qua... dovresti essere in grado di fare... Correa purtroppo... in questo momento... non riesce neanche a far... Correa dai... la differenza dell'Inter... dovrebbe fare Lautaro... oggi Lautaro... io... la partita non me lo dico... sì però non è che può prendere da solo... da solo in mano la partita... però... Lautaro ha fatto sempre 4 giocatori... no no... ma si preoccupi male ragazzi... il centrocampo del Milan... non c'è stato... dell'Inter non c'è stato oggi... perché io salvo solo Ciananoglu... vedi da Slani... leggevo la chat... ma che ha fatto Slani? no Slani niente ragazzi... ma che ha fatto Slani oggi ragazzi... cioè vi voglio bene... e vabbè... fu bene... e dai che su... io vedevo Piasin... e pure l'altra settimana... Fabrizio vi voglio bene... e diceva... perché non gioca Slani... e perché... avevamo capito... perché non gioca Slani... cioè l'abbiamo inteso oggi... non è da Inter... non è che non è da Inter... ragazzi... Brozovic... sono 77 categorie sopra... poi magari... vuole fare la mezzala... non so se è in grado di fare la mezzala... Empoli non la faceva la mezzala... sicuramente gli avrà... gli servirà del tempo... in questo momento... credo che... non si possa... aggrappata... Slani... poi... magari prossima settimana... mi smentisce... oppure Gian Champions League... mi smentisce... dai... non è pronto... mi fermo un attimo... mi fermo un attimo... vi faccio vedere la classifica... è una Roma da scudetto? ma basta... ah eh no... però così no... dai... poverini... assolutamente no... dicono di no... per meno 4 dal primo posto... con uno scontro diretto vinto... non lo so... chi ha... Giorgia... nessuno... ma no... la chat nel pool dice che la Roma non ha una rosa da scudetto... comunque nel pool... ma sono d'accordo... ma poi la Roma comunque... guarda... posso dirti che con Wijnaldum... forse... la Roma poteva stare lì a giocarsela... senza Wijnaldum la Roma non ha un'alternativa al centrocampo... c'è una due... più camarà che abbiamo visto oggi... ha fatto un tiro... Giuseppe... Giuseppe... scusami... secondo te il Milan ha una rosa da scudetto? secondo me il Milan ha l'abitudine... no... perché se il Milan... se il Milan non gioca a Teo Hernandez... gioca a Baloture... cioè... stiamo lì... però c'ha dei picchi... secondo me la Roma non ha... Leao... Teo Hernandez... la Roma è molto... si affida molto a Dybala... la Roma senza Dybala... o il Milan si affida a Leao... la Roma di Dybala... la più o meno... però se posso dirti una cosa... il Milan c'è anche una... una sua... comunque... io parlo sempre di storia... quando hai vinto tanto... anche l'ambiente è abituato a vincere tanto... il Milan è abituato... la Roma non è una società abituata a vincere tanto... il motivo ci sarà se poi hai vinto poco... perché comunque... e Murigno sta provando a portare quel qualcosa in più... l'anno scorso ti ha permesso di alzare una coppa... che non... una coppa che non vince da... non ha permesso Murigno la Roma... i freddi che i giocatori... vedi che torniamo sempre su questo passaggio... vince Murigno... lo vedi che ricaschiamo su questa cosa qui... vince Murigno... ma perché c'è lei con Murigno? perché c'è lei con Murigno? perché c'è questa cosa con Murigno? mi piacerebbe che mi dici... come se io dicesse a te... ma perché difendi solo Murigno? ma che vuol dire ha vinto Murigno? ma tutta la Roma... però se... no ma tutta la Roma difendo... la Roma difendo... il contesto Roma è Murigno allenatore della Roma... no tu me la dici ha vinto Murigno... ha vinto la Roma... è questo che mi deve cambiare... però nelle scuole no... però nelle scuole Murigno... Murigno veramente... bisogna riconoscere a Giuseppe... quando arriva la semifinale o la finale... è un killer... guarda che non ha perso una finale questo uomo qua... devi dargli... io ho capito il tuo ragionamento... e a volte lo condivido... però devo dire la verità... guarda che quando arrivi in semifinale... Murigno fa cose... volevo sapere... ma gli infortuniati Giuseppe... valgono solo per la Roma... o anche la Juve manca poco bala... l'Inter e l'Ukaku... e questo... lui vi ha messo in testa... che la Roma è tra gli infortunati... però scusami Enrico... mi raccatta palla Udine... va bene... i Juventus e Inter sono superiori come Rosa la Roma... ma anche il Milan lo scorso non era superiore... aveva vinto lo Scudetto... ma il Milan c'è un'altra realtà ragazzi... il Milan e l'Inter... non lo stava per lo Scudetto... secondo me rispetto a Roma e Napoli... sono altre realtà... sono abituate... vediamo il Napoli... quindi niente... quindi non li partiamo sconfitti... allora fatemi sentire Giorgia... è più complesso vincere a Roma... sei vinto tre Scudetti... è più complesso... per questa mentalità qua... secondo me... pensa un po'... ogni puntata... attacchi sempre solo lui... no... è lui che vuole parlare... è lui che vuole parlare di Murigno... e poi andiamo sempre a parlare di Murigno... eh no... eh Giorgia... è come se... voi lo difendete sempre... è la stessa cosa... quindi... siamo tutti e due sul nostro... opinione... e ce le rispettiamo... no... ok... mi sembra più carino... io posso discutere... Murigno la Roma... che è arrivato sotto la Lazio... ma no... ecce... me lo facciamo discutere... ampiamente... non lo posso fare... Enrico... noi siamo solo contenti... Samuel... Samuel... che pensi su Giorgia... riso con pollo... ma come... ma scusa... la inviteresti a mangiare riso con pollo... o solo... eh... certo... quando vuoi Giorgia... aspetta... tu tu mangi riso con pollo... Giorgia... certo... ah bene... fatta... fatta... mediata un'uscita... Samuel... che squadra tifa Giorgia? Giorgia è della Roma... quindi appena c'è Mila Roma... organizziamo... organizziamo questo riso con pollo... perfetto... eh... simpatizzo... simpatizzo per la Roma... no... sì... sì... anche se come squadra... per Murigno... no... per la Roma... per Murigno... no... no... secondo me la Roma... sì... vergognoso... secondo me la Roma... viene da... eh... 4-5 anni... che non riesce a aver mai... continuita... forse è il grande... il grande peccato che ha la Roma... riesce a costruire secondo me... belle squadre... perché alla fine... quando hai Rosa Di Bala... Pellegrini... Zaniolo... hai giocatori... però... magari vince due partite di fila... e poi ti perde contro... diciamo un po'... la... la squadretta... quindi secondo me... se la Roma inizia a lavorare come il Milan... che... ha una sua identità... quindi... indipendentemente da chi gioca... ti gioca bene... e si vede che... gioca a calcio... diventa una grande squadra... e può vincere il campionato... ma se fai una partita bene... due partite bene... poi... cadi sempre... perdi... prendi quattro gol... prendi tre gol... non... secondo me... non diventi... cioè non lotti per vincere lo scudetto... sì... ok... 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 Matt... devastante... devastante... nuovo pionista... preso... compriamo ambra la Roma... come compriamo? Matt... no... ma... io ho detto... non capisco tutta questa propaganda... anti... nonostante io non sia il più grosso fan... e le prime volte che sono venuto... quando giocavamo male male male... ero il primo a criticarlo... però secondo me... nelle ultime due settimane... ho visto qualcosa... uno spiraglio di luce... stasera... dopo una partita del genere... mi verrebbe da fare solo i complimenti... alla squadra... non a Mourinho... voglio capire... voglio capire... il sentiment dei giallorossi... ma... verso aprile-maggio... vorreste avere... un quarto posto in tasca... o il rischio di giocarsi... la finale di Europa League? la seconda... ma forse la seconda... sì dai... io assolutamente... tra le prime quattro... vorrei giocare con il Liverpool... e non con il Crotone... no... premesso che se vincilo... l'Europa League vai comunque... vai comunque con il Champions... l'Europa League rischi di trovarci nel Liverpool... in Europa League eh... sì... è uno scarto però... sì... è stato un caso... però vorrei giocare le partite... con le più forti dei campionati... beh... penso che non dico niente di strano eh... però... in Europa League non penso sia una competizione... se pure adesso buttiamo anche... posso scegliere... l'Europa League... dopo diciamo che pure l'Europa League è una competetta... sì ma posso scegliere... andare in Champions... invece l'Europa League... se posso eh... se no... sì puoi però... ah grazie... però la motivazione di Crotone... però rì... parla di Crotone... e fai una fine Europa League... beh... scusami... è da inizio puntata che potete farlo dai... scusami... faccia la Manfredi guarda... in Champions ci fanno le prime quattro dei campionati... e nell'Europa League ci fanno le quinte... non è che te la puoi prendere con me... lo so però l'Europa League... se vinci l'Europa League vai comunque in Champions... no no aspetta... se vinci si vai lì... però la devi vincere... è complicato... io andrei diretto nel quarto posto sinceramente... però a me il quarto posto non mi emoziona rispetto a una finale di Europa League... questo è l'aspetto diverso... nel senso da tifoso ti dico che... vivere una finale di Europa League come ho vissuto una finale di Conference... mi lascia un po' più... Camero non guarda neanche la persona... no io dico che... no scusami Giuseppe... no io dico che comunque... la Conference va bene... ricordiamo che era la Coppa senza barre... fino alle semifinali... però tanto lo so qui a Roma... vi devo dire che la Coppa è importantissima... no no non è una Coppa importante... abbiamo incontrato il Bodo... io non me ne ricordo le squadre che ha incontrato a Roma... sinceramente ragazzi... due tre le squadre neanche le conoscevamo noi... però lui l'ha vinto... è stato bravo... la Roma era la più forte dopo il Tottenham... che ha rinunciato alla Coppa... e va bene... comunque vincere è importante... però dopo che arrivi sesto in campionato... secondo me... è una vergogna stare sotto la Lazio... torniamo tutti... torniamo tutti... comunque posso dire... Camero stavi guardando il Paddle? no sta guardando il Canale 5... tra l'altro è la replica del Paddle... perché la finale già si sa qual è... è una replica... che vuoi? potresti continuare a guardare... grande partita... comunque con Damiano siamo a 3-1 con me... grande partita di Franco Stupaciuque... e Pablo Lima... oggi pomeriggio... contro Galan e Lebronne... però questa è un'altra storia... che Faina guarda sport... Faina guarda sport... lascia perdere surf... non me fa perdere tempo... no... se posso... porti rispetto a surf... quando il tiramisù Faina... che c'è? tramonti la misù... gli pio 10 kg... a fuppe che dici? capito... ma non puoi... ma si onesto... ma devi essere onesto con te stesso... ma onesto con chi? ma io sono onestissimo... ma non sei onesto con te stesso... ma per parlare con te... ma hanno pure rubato il tiramisù... pensa che è strusso... eh... però non puoi prenderti... era io che mi piavo strudelle... perché io gli poi mi hanno proposto strudelle in diretta... ma alla fine quanto avete pagato a testa? un botto... lascia perdere... è stato un bagno di sangue... tipo... eh... mi pare 95 a testa... eh vabbè... ma dove mani? che ti mangi? il tartufo bianco ha preso... Valerio... metti il tartufo bianco... gli facevo... basta col tartufo bianco... che lo pagamo... mica ciò lo regalano... comunque... dicevo... ragazzi... la Roma oggi secondo me... fa una partita difensivamente... buona... sì... ottimo maggi ho visto... ho visto... sì... oggi è stato... è stato bravo... ho visto anche che ha corso più del solito... magari il traffico da Colombo... lo avrà reso nervoso... e l'avrà fatto correre... ah no... per l'altro giorno ho postato una storia... è stato un ottimo giocatore... no no no... mai detto il contrario... eh... complimenti a Murici... che tra l'altro oggi perde una... è Barcellona... ma tu ieri hai visto il video che abbiamo mostrato... sì... sì... me l'ha fatto vedere Augusto... ah... passa così... dicevo... ma dai ragazzi... che se sono le cazzate vostre... no... io me sono... me l'ho pure preoccupato... ieri mattina me l'ho pure preoccupato... vabbè andiamo avanti... comunque dicevo... oggi ho trovato una Roma difensivamente molto buona... eh... ho trovato una squadra corta... tra i reparti... e ha sfruttato tutte le occasioni offensive che gli si sono messe davanti... perché poi la Roma alla fine della fiera fa tre tiri in porta e fa due gol... ripeto... non è stata una partita entusiasmante... non è stata una bella partita... sia da una parte che dall'altra... però secondo me la Roma... oggi è stata proprio la Roma di Murigno... cioè la classica squadra di Murigno... secondo me... ma... sai cos'è... sai cos'è... che la Roma vinca giocando così a San Siro e nessuno li toglie niente... cioè... a San Siro si vince così... va benissimo... cioè... oggi... e quando giochi così anche magari con la Cremonese è il problema... perché se tu... non lo dire... eh... con l'Atalanta aveva giocato una grande partita da Roma... sì... dopo il gol... vabbè però ha giocato pure dopo il gol... no... che caga cazzo... porca troppo... che caga cazzo... non lo so però... scusami... no scusa Enrico... sei d'accordo che con me... no la Roma... qualsiasi squadra che va sotto poi fa la reazione... la Roma prima del Dall'Atalanta... scusami... ma... colui che si chiama... scusate... ma colui che si chiama sotto... santo avete paura di attaccare Mourinho... lo so... ma non c'è problema... a colui che si chiama sottopalla... e non dico il continuo perché è volgare... eh... ecco... eh... scrive... ma no ma... scrive... ma se l'Inter ha avuto più occasioni... ma ragazzi l'Inter nel secondo tempo non ha mai tirato un porto... l'Inter ha fatto due tiri in porto... cosa la traversa Damià? è che non è un tiro in porta... Camelio tu... ma non è un tiro in porta la traversa... quindi non è un'occasione da gol... il tiro in porta... il tiro in porta... la traversa non è un tiro in porta... no no la traversa non valgo... quindi a Roma... a parte che quella è un'altra papera di Rui Patrizio... eh... non scherziamo... attento... no ma Rui Patrizio... Rui Patrizio penso che sia d'accordo anche Giuseppe e Giorgia... credo eh... secondo me no... ma dai ma Rui Patrizio ragazzi... ma Rui Patrizio... ma fa una cosa... ma fa una cosa... non ho detto scarso... ho detto che secondo me... è sopravvalutato ragazzi... è arrivato... c'era Giovedaniano stavolta... dai... è sopravvalutato Giuseppe... ma non è il primo che fa... l'anno scorso però fa una grande stagione comunque... non è vero... ha fatto un sacco di papere... ma insomma io mi ricordo un sacco di papere... ricordo sempre la partita di Tirana comunque... e te pareva no... vabbè ho capito... e famo 90 minuti però Giuseppe così non perdemo mai... ho capito ma contano anche i partite... quando le partite valgono un certo tipo... Rui Patrizio... poi non sarà un fenomeno... nessuno dice... no non ho detto che è un fenomeno... ci mancherebbe... no ma ci mancherebbe... però sinceramente io dal portiere di titolare del Portogallo... ci sono dei dati fantacalcio dell'anno scorso... io poi... quando li guardavo su Rui Patrizio... che stupiscono... ha fatto due partite orrende... ma mediamente non ha fatto male... no no... infatti ha fatto una rossa in una stagione ragazzi... poi gli errori... allora ragazzi... a me non piace... ma infatti parlo di gusto personale... scrivono questo non lo so eh... scusatemi un attimo che... ma è meglio dalla difesa il clean sheet... vabbè ma è meglio dagli altri però... eh ho capito... ma davvero ragazzi... ma Rui Patrizio sarà... il quarto o quinto portiere in Italia... la sicurezza difensiva... la dà quel portiere che c'è dietro... no aspetta ferma... devo l'altranna a Roma... ma le squadre di Mourinho... Giuseppe perdonami... le squadre di Mourinho giocano indietro... cioè si sa che... si sa che la difesa è la parte principale... delle squadre di Mourinho... no... quindi ragazzi... voglio bene... per me... oh poi... è un'opinione mia ragazzi... poi io rispetto le vostre... io dico semplicemente... comunque l'hanno messo fuori dalla nazionale Giuseppe... te lo dico... ce lo sai... è più forte... no... ma anche per la Roma ha 35 anni... si può dire? non è perché l'ha portato Mourinho... non possiamo criticarlo eh... vedi che sei tu... che lo nomini sempre Mourinho però eh... no... perché l'ha portato lui... ho paura che tu lo difendi... ma Mourinho noi abbiamo paura... che sei matto... a 35 anni 15 milioni... è una buona cosa fatta... te lo chiedo... vabbè... l'ha pagato... vabbè... comunque allora è colpa di Diagominto pure... no... la Roma... chi fai Fabio? va bene... non manco ti rispondo dai su... ma cos'è? che fai Fabio? ecco uno... è Mourinho! ah... prendetevela con chi fa queste statunie del cazzo... anch'io non l'avevo riconosciuto... dovrebbe essere Mourinho... vabbè... comunque ragazzi... ma tra Provedello e Rubio Patrizio che è più forte Fai... prima... scusami Giuseppe... prima a Porte... scusami Camelio scusami... scusami... non facciamo Portello... certo no... voglio solo sapere da Faina... ma non ho detto che è scarso... ma guarda... senza che metto in mezzo la Lazio... si risponde a Camelio... senza che metto in mezzo la Lazio che... io già l'ho detto... a me piace più Provedello... ma magari sarò da parte... dico un altro portiere... Perin è dieci volte più forte e Rubio Patrizio... Perin è forte... non sono d'accordo... però Fube... Fube ha ascoltato bene... Di Bala e Winaldum... sono di Mourinho... Ruiz Patrizio ha 35 anni... l'ha portato a Diago Pinto... ma la frittata caro Giuseppe... si è cascato facile... applausi... ancora... continuiamo... il numero uno... di nuovo... te li metto ancora... te li metto ancora... ma lo vedi... non ce la fate... vinto a lui... scusa... ancora un po' di applausi... ancora un po' di applausi... scusa... devo rispondere... prego... era una provocazione naturalmente... eh vabbè... niente... no... era una provocazione... eh no... allora... devo andare... devo andare sulle squadre che lottano per lo scudetto... quindi... a Giorgia... e... e... Giuseppe... ho preso... un'ultima cosa... ti saluto... a Simone... che mi sono perso... Simone Lepi... mi sono perso al Goldie Smalling... ho già... ho perso... ho fatto un annuncio qui... in diretta live... a lui... che è una vita di bene... una giornata di portina... e non so che fine ha fatto... eh... allora... Giorgia... è top e flop della Roma... e poi lì... lo chiedo a tutti... allora... io... secondo me... non è... cazzo... come portiere... prostatina di bozzo... ti bozzo... Rui Patrizio... Rui Patrizio... e invece... top... vabbè... penso sia scontato... Smalling... è un fenomeno... Smalling... Smalling... Devastante... allora... Giuseppe... non mi puoi fare... questi top e flop... che ha fatto lei... che erano quelli un po' più scontati... voglio un nome più sottile... allora... ti dico Selic... allora... perché comunque... sul tuo giudice di Marco... è vero che c'era responsabilità di... ma porta rispetto a Giorgia... no... ma porta rispetto a Giorgia... non l'ho sottolineato... perché mi sembrava imbarazzante... più facile... era più facile... la prima diciamo è più facile... adesso voglio quelli più difficili... ti dico Selic... perché... comunque sul gol di Di Marco... si perde... se lo perde... c'è l'errore di Patrizio... è vero... ma c'è anche l'errore di Selic... e lì... lì comunque devi chiudere... c'è la diagonale... devi chiudere... e lui è lento... nella chiusura... e ti dico Matic... Matic... non ti dico neanche... anch'io su Matic sono d'accordo... molto bene Matic... ti ha portato a spasso... tutto il centrocampo dell'Inter... sì... surfa... top flop Inter... eh... flop... anda... top... direi... solo smalling... della partita... cioè quello che ha fatto la differenza... però l'Inter non saprei un top... nessun top lì... no... ci sta... ci sta... ci sta... Harry e Fabio... che chiudiamo... sei muto... sei muto... Rui Patrizio... Rui Patrizio... flop assoluto... ha ragione Giorgio... è netto... ne sta facendo troppe... chiaro... e il migliore in campo... è Matic... Matic della Roma... secondo me... anche Spinazzola... è andato bene... secondo me... si cresci davvero... non lo ho detto... è vero... Enrico ti dà ragione... la prima volta a sapere... strano... grande crescita... allora... allora... sì... anche in difesa... Fabio... Fabio... beh... direi smalling... per la fase difensiva... e per il gol... perché poi se l'Inter tira poco... è anche... e flop l'Inter? Tu dici... è tosta... no... beh... sì... è tosta... però... però credo che andrà su quella palla... cioè... Di Bala impatta il pallone... in maniera... semplice... non cerca di angolarla... non dà effetto... non la stoppa... non la stoppa... esatto... la tira dritta... lui finisce nella porta... come un sacchettone di patate... tra linea di Fabio... no... nel senso... lui va in... no... lui va dietro... ed entra in porta... neanche gli avessero tirato... una staffilata da un metro... cioè... quella scena lì... se tu togli la parte della palla... tu dici... cazzo... ma cosa ha tirato? il tiro di Adriano con il Real Madrid... te lo ricordi? nel 2000... uno dice... invece no... è stato un tiro... di interno piede... non dico di piatto... ma quasi... senza angolazione... di Di Bala... da... 10 metri da angolato... e lui finisce dentro... come... un sacco... secondo me... potremmo chiudere... con questa diciamina... di Augusto Ciscione... chiaro... chiaramente... sì... grazie a tutti...